Il bando del giorno su Equity Lab, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Credito di Imposta per i Servizi Digitali, Area Geografica, Italia, Settori di Attività, Servizi, No Profit, Beneficiari, Microimpresa, Grande Impresa, PMI, Spese Finanziate, Digitalizzazione, Consulenze, Servizi, Bando Aperto, Scadenza il 21 novembre 2022. Molto importante! Dal 20 ottobre 2022, ore 10, fino al 21 novembre 2022, ore 23 e 59, è possibile presentare la domanda per il credito d'imposta. Contattaci per informazioni o se vuoi aderire al bando.